Abbiamo rifinanziato il credito d'imposta per gli investimenti del mezzogiorno, sta tirando molto bene. Alla data di oggi abbiamo messo in moto quest'anno 4 miliardi di investimenti, l'ultimo dato disponibile, che adesso via via si realizzeranno e che significano occasioni di lavoro prima di tutto per i giovani. Abbiamo rifinanziato anche la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato e quindi questi provvedimenti vanno avanti nel 2018 e continuano a produrre i loro effetti che sono effetti positivi per l'occupazione, in primo luogo l'occupazione giovanile. Poi abbiamo varato il resto al sud e l'abbiamo presentato qui a Napoli il 27 novembre che è capitale che lo Stato metta a disposizione direttamente dei giovani che vogliono fare impresa. E poi tutta la nostra politica per il mezzogiorno, gli investimenti in infrastrutture, in risanamento ambientale è un complesso di misure che definiscono una nuova strategia per il mezzogiorno d'Italia prima di tutto per i giovani del mezzogiorno.